Andate un'altra allora a chiedere, non a noi. Ah, andiamo a so, quindi autogestiamoci da soli. Ah, te capito, è l'aereo? Ehi, te capito, te capito, è l'aereo? Te capito io. Ti paghiamo lo stipendio, lo sai che te lo paghiamo noi lo stipendio? Eh? Se ci paghiamo lo stipendio, è pagato. Stiamo pagando noi lo stipendio. Paghiamo, è la polizia. Paghiamo, è lei maleditata.